Quella di venerdì prossimo 11 ottobre in Molise sarà una trasferta più lunga delle precedenti per Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio dei Ministri, prima di firmare il contratto istituzionale di sviluppo a Campobasso, farà tappa a Isernia, accontentando così amici di vecchia data e l'Onorevole Testamento, che lo aveva invitato formalmente nei giorni scorsi. Si attende l'ufficialità dallo staff del presidente, ma il programma dovrebbe prevedere l'arrivo in città intorno alle ore 11 e l'incontro all'Auditorium Unità d'Italia con gli studenti delle scuole superiori. La prefettura di Isernia ha già messo in moto la macchina per un'accoglienza senza sbavature. Poiché inizialmente l'appuntamento per il CIS era fissato alle 18 in prefettura Campobasso, bisognerà capire se questa seconda fase della giornata sarà anticipata o se ci saranno ulteriori impegni da incastonare tra i due eventi. Dopo la prima dell'11 febbraio e la seconda del 15 aprile, questa sarà la terza volta in regione per il premier Conte, che mantiene così la promessa di dare il via all'iter per la cantierabilità dei 66 progetti approvati dal tavolo romano del CIS grazie al finanziamento da 220 milioni di euro.